Siamo in compagnia di Edoardo Serrac, l'EVA 2005, allora Edoardo la carriera è soltanto all'inizio per te, innanzitutto ti chiedo come è nata la tua passione per il calcio, da quanti anni giochi e da quanto sei nella famiglia della Superba? Ma allora io ho la passione per il calcio, guardando il calcio, sono un tifoso del Genoa quindi guardando mi è sempre piaciuto, ho iniziato a giocare in prima elementare, ora vado in prima liceo quindi questo è il nono anno. E qual è l'ultima domanda? No, ti ho chiesto anche quanto è che sei nella famiglia della Superba? E quant'hai te? Sei nella famiglia della Superba, sei qui? Ah, sono qui da quando è nata, quindi tre anni, prima ero all'amicizia a Lagaccio che poi sono lì, quindi ho iniziato qua subito comunque. Qual è il tuo ruolo? Di calcio di centrale. Hai un giocatore più grande al quale ti ispiri? Ma fin da piccolo, avevo i capelli lunghi quindi mi hanno sempre comparato a Pugliel, il Barcellona, però io mi ispiro molto a Armando Izzo che è un tempo era del Genoa ora è andato a Torino purtroppo, però mi è sempre piaciuto come giocatore. Senti, la stagione sinora com'è andata? Ma abbastanza bene, abbiamo vinto due partite e l'ultima purtroppo l'abbiamo persa, però sta andando abbastanza bene. Com'è il tuo rapporto con i tuoi compagni di squadra, con i mister, con la società? Ma comunque la squadra è bene, siamo tutti amici e ci troviamo bene. Il mister è abbastanza bene, facciamo quello che ci dice di fare e alcune volte non sono sempre d'accordo con lui, però è il mister quindi facciamo quello che ci dice. Infine ti chiedo, l'obiettivo per la squadra è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Della squadra, possibilmente vincere il campionato, il prossimo anno bisogna andare ai regionali e il mio mister è un difensore, subire meno gol possibili e magari segnare anche un po' di più. Ti ringrazio Edoardo e bocca al lupo per la stagione. A voi grazie.